È la città delle leggende e dei miraggi. Sciacca viene definita così sul sito delle vie dei tesori. La città termale infatti è entrata a far parte del circuito di quello che è ritenuto uno dei più importanti festival italiani dedicati alla valorizzazione dei beni culturali e artistici dello stivale che ha preso il via anni fa a Palermo. Gli ultimi tre fine settimana di settembre, ovvero i venerdì, sabato e domenica compresi tra il 13 e il 29 settembre, 12 siti saccensi di interesse storico saranno aperti al pubblico dalle 10 del mattino fino alle 18. Sarà possibile visitare musei, chiese ed altri luoghi selezionati tra San Michele, il Centro Storico e la Marina acquistando un coupon online presente sul sito delle vie dei tesori. Saranno poi una trentina di ragazzi adeguatamente formati, i ciceroni che spiegheranno ai partecipanti le caratteristiche e le curiosità dei posti che spesso sfuggono agli stessi residenti. Ieri è stato organizzato dall'amministrazione, nella persona del vice sindaco e assessore alla cultura Gisella Mondino, un incontro a Palazzo Lazzarini. Era presente anche l'assessore alla promozione strategica del territorio, Sino Caracappa. L'associazione Le Viete Tesori ha infatti stipulato un protocollo d'intesa con il comune di Sciacca per avviare anche in città il percorso artistico-culturale. Il vice presidente del gruppo palermitano, Marcello Barbaro, ha incontrato prima associazioni locali, artigiani, commercianti, operatori turistici riguardo l'organizzazione del festival, che ha maturato ben 13 anni di esperienza e che ha raggiunto non solo altre città siciliane oltre Sciacca, ma anche altre realtà oltre lo stretto. E poi ha incontrato quelli che sono stati definiti conduttori dell'iniziativa, ossia le guide turistiche che forniranno informazioni ai visitatori. Saranno adeguatamente informati sulle storie dei posti e in pieno spirito dell'evento si tratterà di giovani e giovanissimi. Insomma, la macchina organizzativa è più che avviata per l'iniziativa di settembre, un'occasione di riappropriazione dei luoghi da parte dei cittadini e un'opportunità anche per i turisti. Già previsto l'arrivo a Sciacca di un paio di pullman da Palermo. Saranno 450 in tutto e tesori visitabili tra palazzi nobiliari, terrazze segrete, monasteri, chiese e cripte, giardini, musei scientifici, luoghi in gran parte di solito chiusi o non raccontati. Quest'anno le vie dei tesori si svolgerà in 15 tra capoluoghi e città d'arte della Sicilia, ma non tutti proprio in contemporanea. I weekend compresi tra il 13 e il 29 settembre, il festival interesserà oltre Sciacca anche a Cireale, Siracusa, Noto, Messina, Trapani, Marsala, Sambuca, Naro e Caltanissetta. I fine settimana tra il 4 e il 20 ottobre, Ragusa, Modica e Scigli. Infine a Palermo e Catania dal 4 ottobre al 3 novembre prossimi.